Siamo in compagnia dell'assessore del comune di Canicattia, dottoressa Chiara Parrugio, per parlare della situazione della scuola, o meglio, della scuola materna del Pertini di Canicattia. Dottoressa, i genitori si lamentano. Ecco, lei cosa ha da dire? Sì, allora, io mi sento di rassicurare i genitori, perché la situazione è stata presa in considerazione. Abbiamo notato che i termosifoni funzionano, ma non funzionano come dovrebbero, che la qualità della vita dei bambini non è quella che dovrebbe essere là dentro, non è garantita al massimo, per cui stiamo provvedendo affinché si possano ripristinare e possano funzionare al meglio. In questo momento abbiamo dovuto attenzionare diversi plessi, anche quello in Contradareda, per esempio, perché anche lì sono stati dei problemi, ma che sono stati prontamente risolti dai nostri tecnici. Io devo puntualizzare che, così come quello della scuola di Via Petrella, lì invece è stato necessario, dopo diversi tentativi di aggiustare quel parecchio che già c'era da tempo, ci si è resi conto che non funziona bene, adesso verrà cambiato, quindi la prossima settimana verrà montato un condizionatore nuovo. Quello che mi preme puntualizzare è che comunque sia i vari problemi che si presentano negli istituti scolastici vengono prontamente attenzionati. Io ho un confronto e un dialogo aperto con tutti i dirigenti scolastici. Sanno che possono chiamarmi in qualsiasi momento, non hanno mai trovato il mio telefono non disponibile o la mia persona non disponibile. Per cui dico, io sono aperta a tutte le critiche costruttive che mi si presentano, perché fanno crescere, ma quello che mi dà fastidio, e penso che darebbe fastidio a chiunque, sono gli attacchi mirati a screditare la propria persona. Quello non lo accetto, anche perché dirmi di togliere i panni di assessore, assumere quello di genitore per comprendere meglio gli interessi dei bambini è assolutamente fuori luogo. Io il ruolo di genitore lo esercito nelle mie quattro mura domestiche. Fuori, avendo già preso come impegno questo assessorato, io lo porto avanti con impegno e con un grande senso del dovere ogni giorno. Per cui finché ci sarà questo mandato, il mio impegno sarà massimo. E la collaborazione e l'apertura nei confronti dei genitori o di chiunque voglia segnalare dei disturbi sono a piena disposizione. Allora dottoressa, possiamo dire ai cittadini, alle mamme in modo particolare, ai bambini che qualche giorno di pazienza si sistemerà la cosa? Assolutamente, certo.